allora ragazzi salve questo è un video che faccio speciale su calciopoli non c'è nessuna notizia nuova tranquilli però vorrei che lo guardassero in tante 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 persone perché qui bisogna ragionare bisogna essere persone no serie no serie serissime con il cervello allora quando uno una persona che fa dei commenti non riguardano me riguardano dei video che io ho guardato video su youtube e le scrivono ma certo si è mogi era il capo di questa cupola è tutto provato qui e là sotto e sopra ma porca puttana troia schifosa bastarda ma secondo voi secondo voi io voglio sapere che cazzo ne pensate vuoi sapere che cazzo ne pensate anche voi perché a me sta volendo sul cervello da tanto ma secondo voi se mogi era veramente il capo di questa situazione delinquere no ma com'è possibile allora che il disegnatore arbitrale in inter juve dice all'arbitro se hai un dubbio favorisci chi pensa più a chi dietro piuttosto chi è davanti quindi praticamente dice se hai un dubbio favorisci l'inter e non favorire la juve cioè favorisci chi sta dietro che è l'inter ragazzi questa è elementare sta cosa porca puttana cioè se mogi è il capo è il capo è una cosa del genere non poteva assolutamente mai succedere per un semplice motivo perché se lui è il capo dice porca troia io sono il capo voi fate come vi dico io sta partita la fate vincere la juventus questo avrebbe detto un capo invece in questa partita mogi non esiste mogi non esiste mogi non esiste giraudo non esiste mazzini non esiste poi chi cazzo c'è l'anesi non esiste nessuno parla con mogi nessuno ha parlato con mogi o con giraudo o soprattutto con bettega che era il vicepresidente ma non vi sembra strana sta cosa? io ragazzi queste sono cose che dobbiamo pensarci i juventini ci avranno pensato sicuramente perché ci siamo sentiti veramente no defraudati proprio tolti ci siamo ci sembrava come quando è uscita questa telefonata che ci avessero dato una coltellata uguale una coltellata una coltellata e però tutti continuavano a dire che sta coltellata non esisteva uguale uguale lo stesso paragone una telefonata dove il disegnatore arbitrale che dovrebbe secondo l'accusa essere il promotore di una situazione delinquente che ha come capo moggi che ha come capo moggi e dovrebbe far alterare tutte le partite a favore della juventus dice all'arbitro di favorire l'inter adesso voi mi dovete spiegare come cazzo è possibile non è possibile non è possibile non è possibile vedete il ragionamento che ha fatto Carraro sulla telefonata con Bergamo è semplice se la juventus se Rodomonti fa un errore a favore della juventus l'inter deve dare l'accordo in lega per galliani e se la juventus viene favorita l'inter sancazza dato che è la terza grande e deve votare anche lei per la lega è normale che non gliela dà che non glielo dà il voto a galliani quindi bisogna fare qualcosa per fare in modo che l'inter dia il voto a galliani porca puttana questo dice Carraro se la juventus ha un favore è finita se sbaglia la collina nessuno diceva un cazzo perché tanto sanno che collina era il migliore sanno che era riconosciuto anti juventino quindi non gliene fregava un cazzo ecco però e allora cosa dice Carraro dice se Rodomonti sbaglia il favore della juventus succede un casino perché dice domani c'è l'elezione della lega sarebbe una cosa disastrosa ma non è che dice non aiutare la juventus perché è sempre così a sto giro facciamo un modo diverso no 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 dice se la juventus viene favorita e arbitra uno come Rodomonti che è un arbitro che non ha precedenti nel filo juventino è un arbitro normale non è collina capito non è collina che riconosciuto anti juventino era il migliore è un arbitro messo così era tre anni che ne arbitrava la juve e non potevano non metterlo e poi è uscito dalla guerriglia cioè ecco questo è il concetto dice quindi e Bergamo dice ma no guardi presidente guardi che ci parlo personalmente hanno tutti infatti l'accusa l'accusa Narducci Capuano hanno portato la telefonata di Carraro e Bergamo in tribunale come prova contro la juventus come per dire e beh questi questo dice questo giro la juventus la aiutiamo aiutiamo l'inter consigli dal voto l'ego e no 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 anzi no no il loro discorso era perché Carraro dice farci una partita onesta un'onesta no dice deve arbitrare in maniera corretta ma che non faccia per favore per carità a favore della juventus se non un disastro ma non è che dice non aiuti non deve aiutare la juventus perché è sempre così ma a sto giro cercamo di fare qualcosa di diverso no 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 non dice questo Carraro Carraro dice se la juventus viene favorita su questa partita da un arbitro come Rodomonti e sappiamo come la pensa la stampa sugli arbitri che favoriscono tutte le juventus domani l'inter deve dare una reazione in lega se la juve vince con favore arbitrale è un ghetto è un ghetto e l'inter non dà il voto a Galliani questo ha detto Carraro e ha detto quindi mi raccomando mi raccomando non aiuti la juventus non la favoresca ma non non la favoresca che dice a questo giro non l'aiutamola deve Carraro voleva che la partita fosse arbitrar correttamente correttamente e si era raccomandato nel dirgli ascolta a questo giro l'arbitro deve stare più attento del solito perché se fa un errore da parola della juventus è un casino è un casino perché succede un putiferio e il lega sta in casino quindi l'arbitro deve stare attento e perché mi dice ma guardi che ci parlo io personalmente e lui dice se c'è la collina anche se sbagliamo non diceva un cazzo nessuno questo è il concetto questo è il concetto non è che la ju ha aiutata lui non vuol dire che la ju ha aiutata lui vuol dire solamente se sbaglia Rodomonti a favore della juve è un cazzo di casino quindi non deve sbagliare assolutamente niente contro la juventus cioè a favore della juventus non deve sbagliare nulla a favore dell'inter chi cazzo se ne frega questo è il concetto e Bergamo se fa quella telefonata porca troia se fa quella telefonata in cui dice Rodomonti se hai un dubbio pensa più che dietro piuttosto che davanti questo non può essere la telefonata di un capo cupola che ha che ha lo scagnozzo di Moji cioè in questo inter juve non esiste Moji se fosse come veramente avreste detto voi avreste detto voi intendo coloro che pensano che veramente questo processo sia un processo fatto bene fatto bene che Moji sia veramente colpevole sapete cosa sarebbe successo? sarebbe successo sarebbe successo che Moji una cosa del genere l'avrebbe saputa l'avrebbe saputa perché se uno è il capo del calcio che comanda il calcio e pilota le partite sa sempre tutto e lui le spie sul calcio da come dice l'accusa le ha ne ha tantissime secondo l'accusa e allora se è vero che ha tantissime spie come dice l'accusa gli avrebbero riferito che Carrara aveva fatto questa telefonata e soprattutto che Bergamo faceva la telefonata a Rodomonti l'anese o Mazzini questi gli avrebbero detto sicuramente se fosse stato il capo e ci sarebbe stata una telefonata tra Moji e Moji Mazzini o Moji Bergamo che gli dice ma che cazzo fate? ma che cazzo fate? ma come cazzo vi siete permessi dei dici che deve aiutare l'Inter comando io la Juve deve essere aiutata questo avrebbe detto un capo una telefonata del genere sarebbe stata una propria incriminante per Moji ma Moji questa settimana che cazzo ha fatto? ma come come è possibile che uno come lui pilota Juventus Milan e non pilota Inter Juventus eh ragazzi non è possibile non è possibile non è possibile cioè questo deve entrare in testa deve entrare in testa tutti cioè com'è possibile che Moji che Moji ha pilotato secondo l'accusa Bologna Juventus e non pilota Inter Juventus che il derby d'Italia una sfida importantissima scusate cioè con questo cosa voglio dire con questo voglio dire che bastavano due telefonate due telefonate due telefonate la telefonata di Carraro e la telefonata di Bergamo ma soprattutto la telefonata di Bergamo che dice che dovevano aiutare l'Inter questo dimostra che Moji non comprava un cazzo di partita e non è che lo penso io e questi sono dati di fatto è un dato di fatto perché ragazzi partiti scarsi veramente se uno è il capo del calcio che comanda Bergamo non gli sarebbe mai venuto a mente di telefonare all'arbitro e di guarda sfavoriamo aiuto all'Inter cerca di dare aiutino all'Inter eccetera eccetera non gli sarebbe mai venuto a mente se Moji fosse stato il capo cioè è elementare questo non ci sono dubbi su questo è così non si può non si può dire altro dopo se voi la pensate in un altro modo sono d'accordo sono d'accordo posso posso capirlo però io vedete quando le io sono andate in serie B facevano le canzoncine prima ancora che il processo penale fosse iniziato ma parecchio prima che il processo penale fosse iniziato tre anni prima nel 2006 facevano subito le canzoncine contro la Juventus e si pensava quello che si pensava ragazzi dopo nove anni ragazzi non è che le cose sono completamente diverse le cose non esistono è tutto completamente falso tutto completamente falso tranne tranne che Moji controllasse la trasmissione di Biscardi il canone sembra un reato sinceramente non sinceramente tutto questo tutto questo che è successo cioè lo squadrone che ci hanno praticamente distrutto parlamoci chiaramente ci hanno distrutto una squadra cioè se volessimo fare un paragone di intercettazione di Lotito con Pino Iodi secondo me è molto più grave di quella di Moji con Mazzini molto più grave molto più grave quella di Moji con Mazzini dice che cercherà di convincere della Valle in tutti i modi a dare il voto a Carraro in Lega non mi sembra uno scandalo non mi sembra una cosa così scandalosa lo dice magari Moji in un tono da stronzo bisogna essere sinceri dice adesso tanto ci penso io lo lavoro io sto stronzo di merda però non è una cosa cosa l'osca tu voti per Carraro sei quello che comanda la Juventus e cerchi di portare un po' la gente dalla tua parte il calcio funziona così è così non c'è niente di losco non c'è niente di losco le partite che sono state dichiarate pilotate in Cassazione svaniranno svaniranno perché sono convinto che la condanna non verrà confermata a Giraudo no sicuramente a Giraudo no sicuramente ma soprattutto io penso che non verrà confermata a Moji penso che a Moji non verrà confermata però ho paura che ci sia un rinvio il che non sarebbe bello ma dato che il rinvio è già stato fatto spero che il giudice non rinvii niente perché altrimenti si entrerebbe in vigore la prescrizione altrimenti si e questo processo non deve finire con una prescrizione questo processo deve finire come deve finire e se questo processo finirà come speriamo tutti i juventini che finirà in un certo modo succede un casino succede un casino perché dopo ha voglia di dire Moji era che scandalo Moji era colpevole giudici di merda se Moji Giraudo verranno assolti dopo è un po' dura rimangare la tesi dell'associazione delinquere se verranno assolti tutti dovrete dire certo tutti dovrete dire non lo dirà nessuno sicuramente però la realtà di fatti è che sarebbero innocenti nei confronti di Giraudo sono molto fiducioso perché Giraudo è rimasto una condanna abbastanza ridicola ve l'ho detto ve l'avevo già detto per Juventus suddinese dichiarata non pilotata arbitro assolto però lui condannato comunque ragazzi volevo dire di questa telefonata perché questa telefonata tra Bergamo e Rodomonti perché veramente è scandaloso che ancora c'è gente che dice che Moji era il capo basta questa telefonata bastava portare questa telefonata per dire che Moji non era il capo che cos'era era un dirigente sportivo era un dirigente sportivo che che tentava in tutti i modi di difendere una squadra anche controllando essendo amico con Aldo Biscardi gli diceva che cosa doveva mettere voleva difendere gli arbitri che che erano considerati pro Juve voleva difenderli nel senso che voleva fare faceva in modo che questi arbitri che era preso di Biscardi non gli dasse voti troppo bassi che giustificasse in qualche modo gli errori perché se no tutte le altre sommissioni di Mendes se teranno contro la Rai era contro quindi qualcuno a favore lui ce la doveva avere è normale che non è più così non è più come nel 2006 nel 2006 si pensava che veramente che avesse pilotato tutte le partite dei campionati 38 partite siamo rimasti a 4-5 partite pilotate mi sembra che la tesi dell'accusa non è molto scarsa è inesistente l'unica che si può dire che è pilotata sinceramente parlando è Lecce e Parma dove non c'entra niente la Juve non c'è stato assolto non so quello si può dire va bene ragazzi dai ci rivediamo domani sera con Juventus assolo ma questo ve lo dovevo dire perché è veramente una segra ciao ragazzi forza Juve a domani a domani a domani